Nell'anno 478 a.C. morì il tiranno Gelone di Siracusa, che era diventato famoso per avere creato il regno più grande nell'isola ed avere vinto i cartaginesi nella battaglia di Mera del 480 a.C. Alla sua morte, il potente regno di Siracusa passò nelle mani del fratello Ierone, che si impose sull'altro loro fratello Polizelo, il quale, dopo aver tentato con ogni mezzo di ottenere il regno, dovetterà assegnarsi a governare la sola città di Gela, peraltro ormai relegata ad un ruolo di secondo piano. In politica estera, il nuovo tiranno per prima cosa chiuse un accordo di pace con Anassilao, signore di reggio e messana, con cui era arrivato quasi ad un conflitto diretto quando i locresi implorarono il suo aiuto perché minacciati da un esercito di reggini e messani. Pertanto, sicuro dei suoi confini territoriali e certo che Cartagena non era più nelle condizioni di nuocere, egli rivolse le sue attenzioni alla città del suo regno, le quali dovettero subire un drastico programma di redistribuzione demografica che costrinse migliaia di persone ad abbandonare le proprie città. Nel 476 a.C., infatti, Ierone, tiranno dal potere illimitato e ritenuto dai suoi contemporanei spietato e pragmatico, obbligò gli abitanti di Naxos e Catania a lasciare le loro case e li trasferì con la forza a Leontini, radunando così in una sola città tutti i greci di etnia ionica che abitavano nel regno siracusano. La città di Naxos rimase disabitata. Catania, invece, fu ripopolata con 10.000 mercenari di etnia dorica, di cui 5.000 provenienti da Siracusa e 5.000 dal Peloponneso, e pertanto fu trasformata in una città a lui fedelissima e capace di fornirgli in qualsiasi momento delle valide milizie ausiliarie. Non a caso, egli fu considerato il fondatore della nuova città, che fu rinominata Itna, ed il celebre tragediografo Eschilo, che in quegli anni viveva alla corte di Ierone, celebrò l'evento nel teatro della città di Siracusa rappresentando le Etnee, tragedia che purtroppo è andata perduta. Due anni dopo, nel 474 a.C., alcuni ambasciatori provenienti da Cuma, città greca della Campania, giunsero a Siracusa per chiedere aiuto al tiranno Ierone perché attaccati dagli Etruschi, che volevano impadronirsi del Golfo di Napoli. In effetti, già da tempo, gli Etruschi si erano spinti fino in Campania ed erano giunti a contatto con le città greche che avevano anche più volte saccheggiato. Essendo in possesso di una grande flotta, essi avevano anche occupato le isole Oli e spadroneggiavano nel tirreno meridionale, tanto che il tiranno di reggio Anassilao aveva voluto fortificare lo stretto di Messina, essendo snodo strategico per le rotte commerciali verso il Mediterraneo orientale. Ierone accettò di divenire il difensore dei Cumani, consapevole di avere una possibilità concreta di controllare le rotte marittime del tirreno meridionale. Così mandò un gran numero di triremi siracusane che insieme alla flotta dei Cumani vinse ed umiliò gli etruschi in una battaglia navale memorabile, che spense per sempre le ambizioni etrusche di dominare l'Italia del sud e di conseguenza aprì la strada al futuro sviluppo di Roma. Ierone, orgoglioso di quel successo, cercò di amplificare anche questa sua vittoria facendola celebrare con le odi dei migliori poeti del tempo, come Simonide, Pindaro e Bacchilide, che attratti dalla fame e dalla ricchezza del tiranno avevano scelto, come Eschilo, di vivere a Siracusa. Inoltre, per diffondere ulteriormente tale successo, donò al tempio di Zeus e di Olimpia, dove i greci erano soliti stabilire alleanze e guerre, un grande trionfo di armi, alcune ritrovate dagli archeologi, con incisa in ognuna di esse l'iscrizione. Ierone di Nomenide ed i siracusani dedicano a Zeus quale preda dei tirreni da Cuma, laddove con tirreni si intende gli etruschi. Due anni dopo, nel 472 a.C., ad Agrigento morì il famoso tiranno Terone, a cui gli succedette il figlio Trasideo, il quale, al contrario del padre, era un uomo così violento e sanguinario che in breve tempo perse la fiducia dei suoi sudditi e in meno di un anno anche il suo regno. Incurante infatti dei rapporti di parentela che lo legavano a Ierone, ebbe l'incauta idea di organizzare un esercito per attaccare Siracusa. Ma Ierone non gliene diede tempo, perché non appena prese la notizia, marciò verso Agrigento con un'armata e lo vinse in battaglia sulle sponde del fiume Salso. Trasideo sopravvisse e si ritirò in città, ma essendo malvoluto, fu scacciato dagli stessi agrigentini e costretto a lasciare in gran fretta la Sicilia per rifugiarsi in Grecia, dove poco dopo morì. Gli agrigentini, dopo aver messo fine alla tirannia degli emmenidi, scelsero di introdurre la democrazia nella loro città e mandare un in gran fretta ambasciatori a Siracusa che ottennero la pace. Ierone, adesso, aveva raggiunto il culmine della sua fama. Era diventato l'uomo più potente del Mediterraneo centrale, ma solo pochi anni dopo, nel 467 a.C., morì ad Aitna, la città a cui egli aveva cambiato il nome ed in cui egli stesso ormai risiedeva da anni. I mercenari con cui aveva ripopolato la città lo celebrarono come un eroe e lo seppellirono in un mausoleo nel lago Rà. Al famoso tiranno gli succedette il fratello Trasibulo, il quale dopo solo un anno fuggì all'Ocri perché spodestato dagli stessi siracusani, i quali instaurarono in città un regime democratico dopo aver combattuto a lungo contro i mercenari del tiranno che non volevano lasciare la città. Finì così anche l'era dei dinomenidi e con essa anche quella dei tiranni in Sicilia. Il regno si sfaldò e tutte le città greche dell'isola sull'esempio di Agrigento e Siracusa adottarono la democrazia inaugurando una nuova epoca in Sicilia. Nel 466 a.C., dalla città di Lentini, dove erano stati confinati, i greci di Etnia Ionica tornarono finalmente a riabitare Naxos. I Catanesi, invece, grazie all'aiuto di un esercito siracusano, dovettero prima vincere in più scontri i mercenari che erano stati insediati ad Aitna da Ierone, prima di costringerli a riconsegnare loro la città a cui fu ridato il nome di Catania. Anche il regno di Anassilao si disgregò dopo la sua morte. I suoi due figli, infatti, furono scacciati e la città di Messana e quella di Reggio riottenute alla indipendenza, adottarono anch'esse la democrazia. In quell'occasione Messana si ridiede anche l'originario nome di Zancle. Adesso tutte le città greche dell'isola erano di nuovo abitate dagli originari cittadini, i quali si sforzavano comunque di convivere in pace con i numerosi stranieri che erano ancora in ogni città. La tirannia era finita, le città erano tutte libere ed autonome, ma per rimediare alla dissennata politica demografica dei tiranni dovessero riorganizzarsi come al tempo della loro fondazione, dividendo in lotti la terra disponibile e ridistribuendole in sorte ai cittadini. Inoltre, proprio come allora, esse tornarono ad essere anche molto sole. Le divergenze fra Ettenie ricominciarono ben presto a manifestarsi e le città ioniche, stanche del lungo domino dei Dori nell'isola, iniziarono a stringere rapporti politici sempre più stretti con Atene, principale città di Ettenia ionica della Grecia e la spinsero a guardare con attenzione verso la Sicilia. Grazie a tutti!